Allora, da quanto tempo hai detto che sei Ant-Man? Non molto. È capitato per caso. Voglio combattere i cattivi. Come fai tu? Sembra che io faccia casini ogni volta. Ti serve qualcuno che ti guardi le spalle? Salve! Tipo un socio. Dottor Pym, ho saputo che le è successo. Ha aperto il regno quantico e uno spaventoso fantasma che passa attraverso i muri e ha rubato la tecnologia. E questa qui vuole conquistare il mondo. Chi l'avrebbe detto che nel momento del bisogno sarebbe tornato da noi? Non io. Noi l'abbiamo derubata. Si ricorda? Proprio noi. Tutto quello che abbiamo. Siete voi due. Ant-Man e Wasp, insieme. Seguimi. Lei sembra... più intensa. Più sotto, io sopra. Io ho le ali. Perché dovrei andare sotto? Moriremo! Non voglio morire! Non moriremo! Eh, com'era? Eravamo minuscoli! Ero socio di Enki in un progetto chiamato Golia. E quanto è cresciuto? Il mio record? Sei metri e mezzo. Tu? Diciannove metri. Diciannove metri? Avete finito di confrontare le dimensioni? Diciannove. Yeah! Ero taxpayer! Grazie.